Ah le classifiche, le classifiche non contano niente, le classifiche sono tutte truccate Beh in realtà no, purtroppo per fortuna le classifiche contano e chi dice questo lo dice perché puntualmente in classifica non ci va mai allora deve puntare il dito Purtroppo per fortuna per i DJ le classifiche contano L'abbiamo già detto, escono talmente così tanti dischi Pensa un po' se dovessi trovarti in uno store con una lista di 5.000 nomi in ordine alfabetico Non puoi Le classifiche sono innanzitutto una prima selezione di base Questo dovrebbe essere lo scopo Bisogna però prenderle con le molle ed entrare nel merito Ti dico fin da subito, lascia perdere l'autobuy per entrare in classifica Perché un disco se non viene supportato anche dai DJ che lo suonano Il suo essere in classifica non ti porta proprio niente Non è che arriva quello Ah sei primo in classifica, vieni ti faccio suonare in tutti i festival più importanti del mondo Non è evidentemente così che funziona Per essere in classifica veramente devi essere supportato dai DJ Poi qualcuno prova il disco in classifica e continua ad acquistarlo E in questo modo funziona Il fenomeno dell'autobuy è una delle cause che ha portato alla perdita di credibilità di Bitport per esempio E per dire track source adesso ha una reputazione migliore anche perché fa una maggiore selezione all'ingresso Quindi diciamo non viene pubblicato di tutto di più anche nella roba piuttosto scadente Quindi alcune etichette adesso sono più predisposte a concentrarsi su track source Proprio per questo aspetto della credibilità E in effetti quando vai su track source trovi della roba interessante Purtroppo però se fai EDM non ti conviene puntare su track source perché è molto più caratterizzata per la musica house Anzi di EDM non c'è praticamente niente E quindi diventa difficile Se vuoi entrare in classifica c'è bisogno di una buona promozione Questo è evidente e ne parleremo anche di meglio nel dettaglio È difficile che la cosa possa partire spontaneamente nel contesto in cui siamo abituati Quindi impostare la propria promozione in base allo store scelto È un modo per poter riuscire a farsi strada E questo vale anche per le etichette E adesso devono cercare di farsi largo con una promozione Con il supporto dei DJ e con delle uscite di qualità Senza contenuto non può esserci risultato Le formuline rapide, le scorciatoie Purtroppo portano risultati soltanto effimeri e non servono a niente Bisogna lavorare duro In maniera costante e consistente